Diciamo che è un risultato che sicuramente inorgoglisce moltissimo i bellunesi. Dopo 27 anni Belluno torna a essere prima nella prestigiosa classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita e questo è un grande risultato. È un risultato da un lato perché mette in evidenza come i cittadini bellunesi, prima ancora che le amministrazioni comunali, siano stati in grado in questi anni di lavorare a favore della comunità. È una peculiarità tutta bellunese, cioè i bellunesi, le singole persone, sentono sempre di avere un ruolo nella nostra comunità e quindi il loro operato è sempre comunque rispettoso e tiene sempre conto della comunità nel suo complesso e questo ci ha consentito di arrivare a grandissimi risultati in molti campi, insomma anche sulla raccolta dei rifiuti per esempio, dove non abbiamo bisogno della raccolta differenziata spinta, il porta a porta per raggiungere gli stessi risultati. E quindi questo è un grande risultato che deve inorgoglire innanzitutto i bellunesi stessi che lo hanno prodotto. È il risultato anche di una scelta politica molto precisa fatta nel 2012, abbiamo deciso che avremmo puntato alla qualità della vita, l'abbiamo detto in tutte le salsa in campagna elettorale, in quella di allora, in quella recente del 2017, e abbiamo puntato alla qualità della vita non come un fattore in contrapposizione allo sviluppo economico. Molto spesso si pensa che le amministrazioni possono o puntare sulla qualità della vita o sullo sviluppo economico, immaginando fabbriche dannose che distruggono l'ambiente. In verità si può fare anche economia, si può fare sviluppo economico anche puntando alla qualità della vita e quindi sviluppando politiche sociali, ambientali, culturali, come abbiamo fatto noi in questo periodo, o di rigenerazione urbana, quindi di recupero di edifici dismessi e aree dismesse per creare un fattore di produzione socio-economica. Questo è stato fatto in questi cinque anni e i risultati adesso si vedono. Il risultato è particolarmente interessante soprattutto perché lo abbiamo raggiunto nonostante la condizione molto critica della provincia di Belluno rispetto agli altri territori di montagna. Vorrei ricordare che solo Belluno e Sondio sono province che non godono di statuto speciale, ma non godono neppure delle risorse economiche che sono invece date alle altre province. Per la spesa corrente la provincia di Belluno può spendere 288 euro pro capite all'anno e in provincia di Trento e di Bolzano se ne possono spendere 6.400. E sulla spesa di investimento è più o meno la stessa cosa, qui si spendono 135 euro quando altrove se ne spendono 2.600. Quindi nonostante questa notivole contrazione della nostra capacità abbiamo raggiunto questi livelli di efficienza e di risultato. Credo però che adesso questa questione debba essere posta a livello nazionale, l'abbiamo posta con un referendum, quello provinciale, è stata posta nel giusto o nello sbagliato che sia, ma è stata posta dalla questione del referendum di Sappada e degli altri 18 referendum, 18 richieste di andarsene dal Veneto. Credo che non si debba star qui adesso a valutare se facciano bene o male questi comuni a chiedere di andarsene dalla regione del Veneto. Credo invece che dobbiamo acquisire come dato consolidato la realtà di fatto politica che è che sono fallite le politiche di montagna della regione del Veneto e dello Stato italiano. Funzionano solo quelle in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giudea. Questa è la questione politica che deve essere immediatamente affrontata e che noi continueremo in tutti i modi a portare ad ogni livello perché c'è una via d'uscita che è la semplice attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, quindi senza chiedere le leggi speciali. Chiediamo l'attuazione del 116, lo Stato e la Regione si mettano d'accordo e poi trasferiscano le competenze e le risorse alla provincia di Belluno. Abbiamo bisogno di governare il nostro territorio non con risorse eccezionali, con le normali, banali risorse che servono per tenere una montagna in piedi e non farla crollare.